1 1 giocato da dove grande cimi allora io ho usato le regole che mi hanno fatto usare oggi quando ho giocato chi non prendo nulla da small lo che va potete se non avete la carta pescate all'infinito fino a che non avete una carta inoltre metto io metto un tre giallo secondo voi a un tre giallo potete mettere il vostro tre giallo anche ok è giallo c'è un tre verde no no giallo no poi metti subito anche se non è il turno 2 vero quando lo tiri giù se è pari lo metti insieme ok 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 no dai pezzo di me dai jimmy cristo madonna boom secondo te io lo prendo nel culo ma scusa ma spiegare se no vabbè dai se qua terra c'è il rosso no e io un rosso in mano che posso mettere ma non metto il rosso e metto il più 4 nel momento in cui te me lo contesti tu vedi le mie carte dici cazzo c'era il rosso e quindi io pesco sei carte quando quando jimmy parla mi potete spammare tipo un emote cute per favore hai messo i due anche se hai tipo schifato il turno e dello non ha giocato vabbè ragazzi nel senso tranquilli oh ma insomma vai vai dici chi ha cos'è che volevi dire ha così tante carte che ti pare che non c'ha no stavo dicendo con testa con testa non ascoltarlo chi ha a pescare 6 pescare 6 quelle non c'hai un rosso che culo vi distruggo ragazzi ogni sera dobbiamo fare dice almeno un onora di di uno si bro finisce che c'è veniva scusa eh che ogni tanto però soffro di meteorismo dalla bocca no ci sta non mi piace giocare no no sì certo infatti no non sto scherzando comunque allora la prossima volta la prossima volta che mi tirate un più 2 vi tiro un più 6 ma io non mi diri le cose no vabbè qualcun altro vuole mettere qualche altra cosa ma scusa eh vai crack chi ha giochiamo io e te vai guarda eh tieni vai oh mi piace è bello mi fai rigiocare per favore perfetto grazie mille e chi ha allora facciamo così accorciamo un attimo i tempi ho accorciato vai ma così non accorci i tempi così mi fai giocare scusa eh io mi fai il bravo eh bravo per prima si impari vai nonna attenzione e dai 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 Roma è il sambucone volinari vai nonna porca boia mi butti una carta che mi serve Jimmy questa è utile non serve questa te no non mi stai eh lo so oggi hai ragione hai ragione vai perfetto ti ringrazio ho giocato una partita allora lei può tirare qualcos'altro raga per quello che il gioco ci mette troppo porca boia eh però cristo eh una brutta una brutta ma non serve non è possibile non lo fanno eh vabbè non è possibile ma ragazzi ma stiamo scherzando stiamo scherzando ragazzi stiamo scherzando vabbè gioca così impari ah 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 ridi ridi a chi ho ridi ridi a me no no a Jimmy Jimmy ah poi ridi anche tu gira e tira ah porca boia ha saltato Jimmy per pestare che è chiara ah ah per pestare chiara eh si tocca a te perché ha anticipato ha fatto il seguito su di me comunque sta regola è rotta ragazzi ma io non ho buon rotto e dai eh prova non ho capito niente ma sono deluso no ma è una meccanica rotta la risata sembrava tipo tuo zio quando ti chiude nello stanzino no merda che voce voi avete messo faccio di merda che voce avete messo di nuovo che cos'è Maria ma mia sono pensato tu molto adesso voglio crearla io la mia voce cristo ma raga cristo dio guarda che ha vinto Jimmy tu dici porco due basta ma come fai a metterle tutte di fila quelle uguali scusa a fare l'opzione mamma mia però pensavo che eravamo amici ma premi uno ma che cazzo ma c'è solo due porco due dammi un colore che ci piace madonna madonna gesù cristo manco un più quattro ma pesco da te adesso pesco appunto non me le fa mettere di fila cristo dio raga non me le fa mettere avessi preso una cosa buona poi ecco due ah non si possono buttare più carte insieme le puoi buttare solo se hai tipo che ne so l'uno rosso e l'uno rosso non è un'uno rosso no allora io si c'è incredibile ragazzi è incredibile vai nonna pesca eh eh non devi combattre mica sai carte però eh Jimmy non faccio una vittoria ragazzo fanculo Jimmy guarda mi dai le carte giuste non mi dai tutti via tutti via announce hai rotto il cazzo Gino che best oh dai però meno male che devo fare io pesche e basta no por mi volevi rubare il 9 maledetta vabbè tocca pescare fam peccati questo attenzione in che senso Fabio che scelta di merda delu con due Jimmy sei in difficoltà per caso eh eh Jimmy sei in difficoltà eh eh Jimmy sei in difficoltà eh Jimmy sei in difficoltà per caso cazzo Jimmy Jimmy Jones guarda guarda la guarda olee dai dai pesca il mazzo fanculo un saluto a Gubbio tipo al blu eh vabbè eh vabbè se la guarda uh eh va bene nel senso doppio io l'ho dato verde mamma mia cazzi mamma mia bravo meglio meglio c'ho una carta tanto madonna addio so merda guarda guarda ok ma che brutta situazione ma brutta cosa bello mi piace Jimmy 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 vincimi vincimi questa partita Jimmy non penso che lo farà vabbè non penso che lo farà per qualche turno non è necessario così Alex per so che te m4 o AMD Bob prendi di meno mi fa di giocare porco 2 no nel mazzo no no vabbè ragazzi dai ok è perché secondo te io mi tocca mi tocca contestarlo sto babbuino eh non ti conviene neanche perché secondo me ma no avrà chiaramente solo quella eh tutto allora allora secondo me tu butti giù un più due guarda mannaggia la miseria bravo mazzo buttate là tutto bene tutto bene non ha non preassemblato Bob non è una cannonata contro il muro eh vai Jimmy un'altra pescatina non fa mai male vabbè pescare un'altra Jimmy pesco anch'io e lancio giù subito mamma mia come mai salvata la fortuna aiuta gli audaci ma che pesce non fa uno porca boia eh dai gliel'ha regalata gliel'ha regalata non ci posso credere gliel'ha gliel'ha regalata guarda la nonna bastarda la nonna guarda bastarda da nonna down 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 i wanna save my soul